è live e quella ho sempre pensato che invece fosse la stanzetta così insomma uno studio per registrare invece una redazione è una redazione sì sì in realtà l'ho voluta un po tipo casa tipo tipo figio casa perché mi da io mi devo sentire bene mi devo sentire a mio agio e quindi insomma questa redazione che poi a breve diventerà proprio una shooting room è fatta così ci sono le mie chitarre il basso insomma nelle pause metto a suonare a milano a milano sì ok parlando subito di cose fondamentali e importanti la più importante di tutte ma il fake news di tom cruise come l'hai fatto il fake news di tom cruise l'ho fatto con un amico di napoli tra i vari colleghi che insomma io ho detto del video di top gun e lui mi ha detto andrea ma facciamo una figata dai ti faccio diventare ton cruise anzi invitiamo ton cruise qua da te e quindi abbiamo fatto quella quella sciocchezza però mi ha fatto troppo divertire però è bello fatto molto bene quanto ci hai messo a farlo quanto ci hai messo a farlo ma in realtà aniello questo collega d'altronde bravissimo video producer video 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 maker mi diceva che in realtà non è venuto granché perché i tempi erano ristrettissimi perché qua per fare video no se abbiamo sempre tempi super ristretti però credo che mi diceva tra le otto e le dieci ore di rendering però mi diceva se avessimo fatto una roba in 24 ore usciva veramente super caspita è incredibile oggi come i deepfake sono potenzialmente super qualitativi ho visto questa azienda inglese che è quella che ha fatto il tom cruise su tiktok no diciamo storico virale e loro cacchio ormai c'è una qualità veramente impressionante che dici cioè a prescindere dal deepfake la cosa che mi fa riflettere è che gente come noi andrea diventa superfua a breve nel senso cioè tu imposti il tuo deepfake ok gli dai tutti i parametri e poi lui lavora per cioè gli dai lo script e lui è te praticamente mentre tu fai altro suoni la chitarra fai altre cose no cioè lo usi per te stesso sì sì è possibile speriamo di no però eh esatto perché ci toglie il divertimento ma tutto lui eh sì ci toglie il brio no eh eh sì comunque secondo me una cosa importante è inserire sempre un disclaimer perché oggi ecco come dicevi la qualità è talmente alta che una persona magari ne so cinquantenne no quarantenne cinquantenne che 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 non magari un po' lontano dal mondo social da queste tecnologie può pensare davvero che che Tom Cruise era qui no quindi può essere secondo me anche non dico pericoloso però attenzione ecco infatti noi abbiamo messo un disclaimer non so se ci hai fatto caso ho voluto di trovare dobbiamo assolutamente metterlo ci mancherebbe senti caro fai un passo indietro anzi dimmi quando uno ti chiede che mestiere fai che cosa gli rispondi ah è complicatissimo vabbè è oggi che faccio oggi faccio per me sono un creativo lo chiamiamo creator non lo so diciamo a livello ufficiale sono direttore editoriale di geopop che è una società è un magazine per cui ufficialmente sono direttore editoriale di geopop e oltre ad essere ovviamente il fondatore però ecco la io mi mi sento più creative cioè a me piace fare tante cose oggi faccio video c'è soprattutto faccio il divulgatore scientifico ecco molti potrebbero dire che sei che sono un divulgatore scientifico sì in realtà credo di esserlo almeno spero e però ecco mi sento tante cose e spero di fare tante cose il giorno spero di fare un film di scrivere un album musicale per dire quindi sì 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 e quando dici un magazine è un magazine solo digitale o anche cartaceo no per il momento è digitale geopop.it quindi la diciamo che la maggior parte delle persone che ci seguono oggi ci conosce principalmente con i video perché siamo nati con i video e cominciamo ad essere belli forti con i video però c'è un altro un altro binario che corre parallelo che è quello degli approfondimenti degli articoli infatti sul nostro magazine online ogni giorno escono articoli infatti come ti dicevo prima c'è una redazione oggi di otto persone che oltre a scrivere copie per i video eccetera eccetera scrive articoli e tutto questo però in che tempi è nato ti curioso pensando ecco magari al pubblico che non ti conosce e che che magari queste cose già le sa però giusto per dare un po di contesto rispetto a quando sei partito guarda a molti il l'idea è nata mi ricordo perfettamente nel 2018 era il giorno di pasquetta perché ero al bar con gli amici uno spritz parlavamo di progetti progetti futuri e io ti ti racconto un aneddoto che ti farà piacere credo spero in quel periodo io già ti seguivo da allora e sei stato una grossa fonte ispirazione perché in quel periodo dissi ma sai che c'è di nuovo io faccio faccio di video però professionali allora lavoravo in francia sono stato all'estero 10 anni in italia un anno e mezzo fa come e cosa cosa facevi io sono geologo di base per cui facevo il geologo e il team manager sono stato otto anni all'istituto francese dell'energia e molto gestionale molto manageriale oltre che tecnico però diciamo che era un consulente scientifico manager diciamo così e in quel periodo mi piaceva l'idea di fare dei video professional soprattutto per l'italia ok per gli italiani perché avvertivo ogni volta che scendevo in italia avvertivo che c'era ecco i giovanissimi si sentivano un po vinti come se non avessimo come se non avessero quella carica e quindi pensai ma figo montemagno fa sti video potrei fare qualcosa di simile motivational va la mia carissima amica che era al tavolo disse andrea ma ma no ma te sei geologo fai video di scienze poi racconti le cose così in maniera semplice fai video di geologia di scienze ma video di scienze ma ebbe che parlo che palle io parlavo di scienze tutti i giorni a economisti manager in giro per il mondo volevo raccontare qualcosa di diverso però poi ci pensai dissi ma ora ci provo comprare una camera un microfono e cominciai e da allora boom è andato avanti poi chiaramente è stato un lavoro che è stato un hobby fino al gennaio 2021 cioè ero totalmente da solo ti mettevi a iniziare su youtube immagino facebook youtube e semplicemente ti mettevi lì per i fatti tuoi facevi video o da subito hai preso un setup diciamo più professionale no no ero io camera e facevo video insomma molto in maniera molto amatoriale infatti non andare mai a vedere i video prima del 2021 perché sono imbarazzanti veramente però ovviamente ci tengo perché rappresentano un po l'inizio di un progetto che poi ecco come ti dicevo nel 2021 è diventato una società grazie al gruppo ciao people che è l'editore digitale praticamente numero uno in italia e che ha visto ad occhiato questo progetto ne ha cattato le potenzialità e quindi poi siamo partiti insieme gioco è diventato una società e ovviamente c'è stato un investimento chiaramente non solo economico ma di 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 testa e infatti a supporto ci sono tantissime persone tutti i miei colleghi che sono a roma milano a napoli che ovviamente saluto che ci supportano ogni giorno perché job op è chiaramente se ecco chi chi ne capisce un po di più sa che c'è una struttura ovviamente dietro perché per per sfornare 4 5 6 video a settimana come video nostri che sono strutturati tante immagini molto lavorati ehm e lì c'è bisogno di di persone di persone competenti assolutamente assolutamente e soprattutto quando guardi un video ma per dire stavo guardando l'ultimo eh sul lago più grande del mondo qualcosa del genere e che uscite ieri e c'è soltanto di video editing animazioni ma c'è lì dietro non è un lavoro che fa in 10 secondi insomma quindi senza avere una struttura non è fattibile insomma questo è abbastanza evidente ma è per giopop è è una società dove c'è anche ciao people siete soci esattamente soci insieme e qual è il modello perché uno magari si chiede ok pensa quanta gente che fa video su youtube o che vorrebbe fare il content creator voglio farlo youtuber eccetera e poi dice si scontra magari con la con la dura realtà di dire vabbè però come faccio a mangiare con questa vicenda ma non so come faccio a mangiare e come lo lo affronti tu come l'avete affrontato voi ma sicuramente siamo in una fase di start up quindi sicuramente io credo che ci sarà da capire capiremo tante cose però è chiaro che per ora il modello è un modello sicuramente pubblicitario attraverso le piattaforme attraverso il sito un modello c'è anche tutta la parte di branded content cioè di video per chi non mastica beh da te tutti conoscono questi termini immagino però insomma si tratta di video fatti in partnership con dei brand chiaramente io sono un po rompi scatole tra virgolette perché perché per me è la cosa più fondamentale che c'è e la fiducia tra noi e la nostra community è la cosa più il tesoro più prezioso quindi quando andiamo a fare un branded content c'è non dico una selezione forte ma il l'argomento di cui dobbiamo parlare deve essere in linea con noi un brand content di cui vado estremamente fiero è stato uno degli ultimi video che abbiamo pubblicato sull'organico abbiamo raccontato che fine fa l'organico proprio i nostri sacchetti dell'organico che fine fanno e in cosa vengono trasformati quindi abbiamo raccontato il riciclo perché insomma diventa gas biometano diventa gas che arriva ai nostri fornelli e compost cioè fertilizzante per i nostri campi quindi siamo andati a visitare con iren questo questo stabilimento questo biodigestore fichissimo e ecco quello è quasi come se fosse un video editoriale cioè è un video editoriale tu non vedrai una differenza tra i video classici e un video come dire brandizzato poi chissà io spero dimmi dimmi perché in pratica andrea in quel caso lo sponsor slash partner si offre la possibilità di fare un contenuto che in un qualche modo tu avresti fatto ugualmente e semplicemente ehm hai la possibilità di farlo insieme a loro e e a quel punto funziona bene è più che altro di farlo al top perché se tu hai la possibilità di raccontare di un oggetto con chi quell'oggetto lo lo ha creato o lo ha o ci lavora è chiaro che anche la tutta la tutte le informazioni che tu hai anche dal punto di vista scientifico sono altissime ti faccio un esempio quando sono andato lì sullo stabilimento la la responsabile dello stabilimento è una biologa marina per cui siamo stati praticamente due ore e mezza a parlare solamente io e lei per così quindi io mi cioè mi ha briefato e da lì poi è partito lo scripting no? E quindi sì questa è una cosa che ovviamente tengo tantissimo perché ecco le marchettate non ci saranno su Gio Pop non ci possono essere cioè anche perché se no ti ti sputtani via il canale insomma quindi devi fare una rinuncia di breve periodo per fare un investimento in lungo periodo su quello che è la credibilità del canale il paradosso però Andrea notato in ormai in tanti anni è questo che le persone cioè noi che magari facciamo contenuti ci poniamo tutti questi problemi io ragiono come te infatti lavoro con due aziende all'anno cioè zero non lavoro praticamente con nessuno no? Proprio per questo discorso qua perché sempre no 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 non mi sta bene e quindi è molto difficile trovare delle aziende con cui lavorare però la cosa che noto ogni giorno stamattina guarda ti faccio questo esempio ho pubblicato un video su bitcoin ok bitcoin quindi non c'è un direttore marketing di bitcoin e un paio di commenti erano ah ma cosa dici quanto ti hanno pagato e a uno era anche risposto dicendo quanto ti hanno pagato chi i simpsons gli alieni cioè chi da chi ti stai riferendo no? E però la cosa curiosa è che comunque quando tu citi un prodotto un'azienda nel mio caso figurati ogni due minuti devo citare se no non posso parlare di niente no? Se dico faccio una corso giù un bip cioè devo dirti il nome dell'azienda la gente immediatamente pensa che tu sia pagato per dire quel nome prodotto quindi c'è questo paradosso dove noi ci poniamo mille problemi ma le persone comunque pensano che tu vieni pagato per per citare qualunque cosa ecco o se hai quella lampada lì chi è che ti ha pagato allora quella la chitarra ci ti stanno dando è una roba allucinante e quindi dopo un poi diciamo ragazzi di tu fai del tuo cerchi di essere super trasparente poi ognuno pensa quello che vuole ecco sì sì questo ovviamente tutto quello che hai detto lo viviamo anche noi quasi ogni giorno devo dire che la nostra community è estremamente legata a noi e credo che ci conosce proprio bene cioè sa che facciamo le cose per passione che è proprio la verità cioè questo progetto è nato per passione e tutte le persone che lavorano con me qua sono state scelte perché erano appassionate e questo secondo me la marcia in più cioè noi quando raccontiamo una storia lo facciamo per passione perché cioè quando mi vedi nel video che che faccio un po il pazzo che sto gasato perché io in quel momento sto gasato non è che sto capito sono gasato perché è super appassionante e che ti volevo dire sicuramente sì le persone una fetta di persone pensa a male e ma chi ti ha pagato magari perché hai detto un qualcosa che va in direzione in una certa direzione piuttosto che un'altra che magari appunto non è non si sposa bene con con il pensiero comune già allora c'è stato qualcuno che ti ha pagato no a certe volte mi vorrebbe dire magari non c'è nel senso perché poi c'è poi l'importante secondo me c'è la community le community dovrebbero capire che secondo me è se fai un video che in in partnership con qualcuno ma cazzo dovrebbero dire ma bellissimo cioè non solo hai fatto un video perché poi ovviamente a patto sto dicendo questo a patto che il contenuto sia un contenuto interessante cioè che dia qualcosa alle persone a patto se c'è quello ma allora la community deve essere felicissima caspita ragazzi state andando talmente forte che i brand vi stanno cercando pazzesco questo vuol dire che farete non solo più video ma dei video a una qualità ancora più alta noi stiamo aumentando sempre più la qualità ora per esempio da un mese a questa parte abbiamo aggiunto nella produzione delle animazioni 3d fatte da noi se vai a vedere non so tipo il v il video della della stazione spaziale internazionale quello che vedi non è preso da qualche parte l'abbiamo fatto noi ma infatti volevo volevo restare su questo argomento della qualità andrea perché quando vedo i vostri video i tuoi video vostri video la prima reazione che ho è wow questo qua è un prodotto diciamo televisivo e quando dico televisivo in senso positivo no quando vedi dici ah non so ecco qualcosa che è stato fatto in modo curato e non così due immaginette prese a caso e messe lì con una voce fuori campo mi mi domandavo a quanto tempo ci mettevate a montare un video standard poi chiaramente dipende dai video e o a quanto anche prepararlo no perché non è solo il montaggio ma è la preparazione insomma lo script tutto quanto la parte di di ricerche poi mi domandavo anche sulle immagini i diritti eh per usare dei dei pezzi di video come funzionasse allora relativamente al tempo eh la parte di scrittura ideazione scrittura prende molto più di quello che uno può immaginare e questo è sicuro ehm diciamo che può variare da mezza giornata quando proprio ti svegli la mattina boom ah ok c'ho tutto nella mente io arrivo io ho i ragazzi qua Alessandro Camilla Nicola Stefano eh arriviamo qui trrr e scriviamo praticamente in due ore bene quello è il caso magnifico che ci auguriamo tutti i giorni però ovviamente non arriva sempre nella notte non sei illuminato tutte le notti ecco ehm e poi ci sono degli script che prendono anche due tre settimane perché perché ovviamente Geopop è un canale scientifico eh dove c'è arte intrattenimento ma soprattutto anche scienze le scienze quindi la consistenza scientifica è proprio un paletto fermo quindi noi ci andiamo a studiare tutta la bibliografia facciamo studi molto approfonditi qualcuno mi dice anche troppo però secondo me non è mai abbastanza cerchiamo di approfondire anche intervistando studiosi scienziati eccetera eccetera quindi quella parte prende tanto poi c'è la parte di montaggio solitamente in media il montaggio può andare da uno a tre giorni tre quattro giorni comunque nel mio conteggio in media si tratta di 30 40 50 ore a video cumulative quindi è tanto è tanto relativamente ai diritti noi stiamo cercando di fare tutto noi piano piano l'idea è quella però nel momento in cui tu hai l'autorizzazione le autorizzazioni dagli autori di un video video americano per esempio se tu scrivi a quest'autore dici guarda io vorrei fare questo video che verrà pubblicato qua questo giorno eccetera eccetera mi mi dà la possibilità di usare il tuo video se ti dice sì certo fatto quindi noi facciamo uno studio a monte chiediamo una marea di autorizzazioni e poi in base a quello poi decidiamo quali utilizzare diciamo è un lavoro lungo e faticoso no parlavo con domenico procacci che il produttore cinematografico storico e di recente fatto una serie sul tennis e giustamente diceva che solamente trovare gli archivi avere gli ok per gli archivi e poi magari un'immagine era stata mandata dalla televisione cilena però quella aveva solo un pezzo di autorizzazione poi un altro pezzo è veramente una fatica però dall'altro lato è anche quello che costruisce secondo me un vantaggio competitivo rispetto a una tua concorrenza che poi non so nel tuo settore so quale possa essere la concorrenza però per fare un video così a quel punto devi avere anche un livello di attenzione di struttura di dedizione dello stesso livello no quindi anche un paletto che metti e che poi ti torna tuo vantaggio ecco io penso in ogni caso la qualità video secondo me io ci tengo particolarmente però ti dico la cosa più importante di un video secondo me almeno sulla base della mia esperienza non è tanto la qualità video ma il contenuto io posso fare un video da un contenuto pazzesco dove non c'è una copertura cioè non c'è un'immagine che mostri quindi sto solo io in camera se ti racconto una storia pazzesca fa dei numeri allucinanti cioè non c'è bisogno di quelle 50 ore è chiaro che poi quando metti una storia incredibile con un montaggio veramente di livello e allora fai 18 milioni di visualizzazioni su facebook per dire come ci è capitato lo scorso anno che è stato il video più visto in italia da quello che da quello che so io però guardando io concordo con te no e come sai io faccio video e parlo e basta quindi come dire sposo quel concetto però ti rendi conto di come se veramente vuoi fare una un contenuto sempre verde a meno di essere matthew mcconey che fa un monologo pazzesco e allora vabbè può come dire può anche quella quello funzionare però è un contenuto in una in vent'anni invece se tu fai contenuti sei un media fai contenuti ogni ogni settimana beh insomma anche per la comprensione delle persone è diverso se tu gli dai anche degli altri angoli per poter comprendere e gli dai un'immagine gli dai un suono gli dai un testo un'animazione e magari lo stesso concetto tu potevi spiegarlo senza niente però alcune persone dai tante modalità di comprensione a tante persone diverse ecco e quindi quello secondo me ha una sua enorme importanza ecco in generale in generale un altro aspetto scusami volevo dirti questa cosa visto come detto un film di recente ho visto top gun maverick e ho visto il video su top gun tra parentesi e anche qua vedi dico top gun maverick e nei commenti ci sarà qualcuno che dice ah ti hanno pagato perché capito questo è la tornando al discorso delle del prender conto comunque ho visto top gun maverick e poi sono tornato nel loop di tom cruise per vedere o sono partito guardando i dietro le quinte distante eccetera e poi sono finito inevitabilmente con l'algoritmo di youtube a vedere alcune interviste di tom cruise è una cosa che mi ha veramente colpito mi ha fatto riflettere rispetto ai miei contenuti voglio la tua opinione è questa quando tu vedi questi personaggi sono personaggi poi ti può piacere non piacere come chiunque però devi ammettere che è uno che ha dedicato la vita al cinema come produttore attore eccetera e quando fanno un progetto ci vogliono anni nel senso un sacco di persone un sacco di soldi e anni per arrivare a un prodotto che poi resta si spera tutta la vita cioè top gun resta tutta la vita ecco non so altri film resta tutta la vita quello che di cui io oggi soffro sui social soffro nel senso sulla quale effettivo è a me piacciono i contenuti brevi veloci non ho pazienza di star lì e dire ok adesso per i prossimi due anni ci mettiamo lì facciamo un contenuto e cioè io voglio vederlo subito penso una roba la dico la faccio boom montaggio e si va però stavo veramente riflettendo sull'importanza invece di documentari film riuscire a uscire con contenuti così che abbiano un peso diverso una durata diversa thoughts ecco a questo mi colpisci proprio in un punto molto particolare perché è quella della 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 durata del racconto e quindi anche del di quanto va in profondità in un racconto sui social noi siamo in un mondo è come se fosse un universo dai tempi iper brevi per me troppo brevi cioè siamo passati vabbè youtube inizialmente si facevano video un po più brevi poi fortunatamente youtube ora è forse secondo me la piattaforma che più respira e la piattaforma che io personalmente preferisco perché da ti da la possibilità di raccontare delle storie in maniera più più ossigenata ok secondo me le persone in questo periodo storico hanno bisogno di ossigeno al cervello hanno bisogno di lubrificante negli ingranaggi perché il fatto che noi riduciamo la nostra attenzione su questo dannatissimo coso a tre secondi cinque secondi ragazzi secondo me alla lunga questa cosa non può portare delle cose così positive perché il nostro cervello praticamente diventa più piccolo cioè si abitua lavorare sempre meno e quando caspita io tra il 2016 e il 2020 ho fatto sport quasi cinque giorni a settimana sei giorni a settimana stavo una bomba ora vado uno barra due quindi ho diminuito il mio corpo risponde proprio diversamente io credo che la mente sia uguale quindi quando tu mi parli di e anche la dimensione sulla quale ti avvitui a ragionare a livello di grandezza è diverso se io faccio un contenuto che va su uno schermo grande così e tu lo guardi in questo modo o se faccio un contenuto che va piccolo così e lo guardo è proprio diverso è un livello di 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 ossigeno completamente differente di visione di ispirazione e quindi ecco scusa era per aggiungere quello che dicevi c'è anche proprio la dimensione del dell'oggetto che vedo ecco sì perché secondo me quella dire quella dimensione di cui parli poi si traduce in un'esperienza sensoriale diversa cioè se io sto col telefono e guardo un video di job op non potrò mai avere la stessa emozione di un documentario job op per dire un film job op al cinema ma come fai è impossibile è ovvio fortunatamente abbiamo ancora i sensi che che lavorano come devono lavorare quindi io il cinema per me è la massima espressione del dell'arte visiva diciamo ecco quindi spero un giorno di 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 ampliare le durate dei nostri contenuti in modo da 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 dare più ossigeno di godersi un contenuto caspio parliamo di di che ne so delle forbici facciamo una cosa sulle forze perfetto ecco quindi spero che noi siamo nati sui social ci saremo sempre credo cioè sempre ci saremo però a me non ti nego che mi mi piacerebbe tanto fare altre esperienze proprio per andare in quella direzione lì cercare di fare un qualcosa che abbia un respiro più grande una una dimensione diversa ecco mi piacerebbe tantissimo cioè tanto da un impatto anche differenti mi ricordo al gore quando venne in italia e io andai a fare a seguire appunto per l'intervista al gore a teatro con i blogger bla 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 e c'era il suo documentario un convenient truth cioè è ovvio che se lui avesse fatto ai tempi i social non erano così diffusi quindi non aveva comunque la possibilità però è chiaro che quella roba era un documentario che aveva fatto grande scalpore perché comunque aveva quella capito andavi al cinema e lo vedevi così non era il videuccio virale ecco senza nulla toglie perché io ovviamente sono embeddato nel mondo social però ci deve essere ecco secondo me è una declinazione di altro tipo così come gli eventi fisici no e quando vedi vasco che fa 200 mila persone è diverso quell'impatto lì rispetto a ascoltarlo su spotify o vedere lo streaming su youtube è proprio diverso e per cui insomma è un media prima o poi secondo me deve avere varie varie declinazioni e la gestione delle persone vabbè tu arrivavi già da un'esperienza comunque diciamo di management per cui immagino non era una cosa nuova no fortunatamente non era una cosa nuova anzi insomma prima in francia gli ultimi due anni gestivo un team di 19 persone d'altronde francesi d'altronde tutti esperti 30 anni 40 anni 50 anni quindi insomma ora è relativamente più semplice fortunatamente quindi no quell'esperienza insomma la mia vita professionale passata è stata tutta è stata fondamentale per per geopop cioè io non sarei mai stato capace di pensare e di portare avanti un progetto del genere senza quelle esperienze perché c'è appena dopo la laurea in italia a napoli sono partito 24 anni sono partito a glasgow quindi eravamo vicino non so se tu eri già a brighton nel 2010 2010 quasi 2012 sono stato in scozia dal 2010 al 2013 e poi in francia però per il lavoro che facevo praticamente giravo il mondo quindi c'era un progetto in messico che va in messico una settimana dopo a wadabi russia africa norvegia quindi è stato un po c'è per dieci anni sono sempre stato fuori la zona di comfort e me ne rendo conto oggi sempre stato fuori la zona di comfort e questo ovviamente c'è ti spacca il cervello te lo apre e quindi hai modo di assorbire tante cose e di fare veramente esperienza e questo per me infatti io mi sento fortunatissimo da questo punto di vista è stata tostissima perché girare il mondo è bellissimo bello 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 però poi c'è capita che sei solo è con la testa e anche fisicamente però però ha portato qualcosa secondo me come esperienza senti invece lato social come come l'affronti e come l'affrontate perché sai meglio di me che le piattaforme cambiano ogni giorno l'algoritmo si inventa qualcosa il peso delle piattaforme può essere diverso youtube prima non c'erano i shorts e poi adesso ci sono gli shorts cioè e quindi ognuno cerca di capire insomma qual è la modalità giusta io visto che voi fate dei numeri assolutamente importanti e altissimi in realtà rispetto anche al quantitativo di contenuti che postate no perché magari a volte vedi un canale che dice fa mezzo milione a video sì però fa un video alla settimana è diverso rispetto a farne tre al giorno no cioè quindi a livello anche distribuzione diverso però voi invece riuscite a fare dei numeri enormi rispetto anche 700 mila follower 607 mila e magari fai un video e fa 500 280 mila views cioè fa numeri molto importanti e anche quando guardavo ti ho questo dato curioso l'altro giorno ero lì a spipolare sul canale di team ferris ok che è prevalentemente un podcast quindi è giusto dare questo dato e team ferris ha un milione di follower ok ti dico quante views hanno fatto non so ti prendo gli ultimi po 10 video ok 6.000 views mille views 4.700 6.800 8.600 4.400 2.600 cioè praticamente è un canale che ha un milione di follower che non fa visualizzazioni è chiaro che ne posta tanti e sono video diversi non è il suo però è incredibile cioè non c'è paragone rispetto a quanti follower veri perché non è anche team ferris si mette a comprare follower no chiaramente quindi questo è un aspetto interessante ecco come spieghi il fatto che riusciate a fare questi numeri io credo che i numeri siano siano una conseguenza del di quello di cui abbiamo abbiamo parlato prima cioè di quell'attenzione quella dedizione ai contenuti e all'attenzione per la community cioè noi non ci dormiamo la notte per per pensare a cosa raccontare cioè io ci sono dei periodi che veramente c'è la mia compagna diceva beh però c'è stai anche un po qua c'è le nuvole bene però dai torna un po sulla terra sto sempre là a pensare chiaramente io credo che sia i numeri siano una conseguenza una conseguenza di tanti fattori di sicuramente una buona percezione del del modo di raccontare perché poi quello che ci caratterizza non è tanto il cosa raccontiamo ma è il come lo raccontiamo e quello sinceramente so spiegartelo poco cioè è una cosa proprio è molto diretto molto semplice le i paroloni le complessità cerchiamo di sintetizzarle di semplificarle e quindi i nostri video come dico io vengono visti sia dai bambini di otto anni che dalla zia concetta di 70 anni che non ne sa nulla delle porta aeree atomiche per dirti che è uscito due giorni fa su facebook sta a un milione e sette per dirti così due giorni fa insomma questa questa formula che è molto complessa che traduce la complessità in semplicità questa formula credo che sia uno degli aspetti fondamentali e poi credo che che sia quello che dicevamo prima anche la struttura la nostra organizzazione ci sono tante persone che lavorano quindi è tutto ottimizzato cioè cerchiamo di ottimizzare tutto poi io sono un maniaco delle dell'efficienza per cui cerco sempre di disperdere meno energie possibili quindi di catalizzare tutto nel nel contenuto no e e poi in ultima ma già l'ho già l'ho menzionata prima è la passione cioè se tu senti una storia da una persona poco appassionata difficilmente ti appassionerai cioè ti sentirai non ti sentirai tanto coinvolto in quella passione in quella roba se c'è una persona che ci crede veramente non perché pagato ma perché ci crede in quello che racconta e poi magari lo racconta bene e beh te ti senti coinvolto infatti le persone cominciano a iscriversi a scienze della terra in italia tantissimi anche grazie al nostro a quello che raccontiamo ma è pazzesco cioè caspita è veramente incredibile nelle scuole ma centinaia di scuole sia i maestri di media elementare professori sia gli studenti in classe utilizzano i nostri video io ovviamente onorato noi caspita e questo perché perché riusciamo ad arrivare almeno per ora speriamo a un po a tutti in maniera semplice senza banalizzare perché poi è quello il punto esatto perché a volte uno magari semplifica troppo penso spesso al linguaggio televisivo di tanti argomenti e che diventa sempliciotto e a quel punto perde qualunque tipo di diciamo di validità perché appunto se pare di argomenti che poi li sminchi totalmente per rendere incomprensibili a chiunque e quindi quella giusta tara non è facile per anni chi c'è stato a parte piero angela cecchi paone però sono sono stati diciamo mi vengono in mente quei due nomi lì ecco non mi viene in mente altro eh sì 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 sicuramente piero e alberto angela sono sono i maestri no della divulgazione scientifica io purtroppo non li ho conosciuti ancora spero di conoscerli ma non li conosciuti è perché non è successo ancora però spero di conoscerli davvero e poi sì effettivamente da tanto tempo non ci sono c'è un po un vuoto c'è un po un vuoto lì perché poi sul web ci sono tanti divulgatori tantissimi poi ho visto te te le hai anche incontrati barbascura che è incontrato dario bressanini che conosci se non erro giusto ma poi ce ne sono tanti sul web bravissimi anche che fanno cose diverse quindi secondo me negli ultimi anni sul web c'è proprio una un fermento ma meno male meno male è una cosa bellissima io spero che con joe pop noi riusciremo a contribuire non solo a portare contenuti ma proprio a far accendere altre micce perché magari dimostreremo che si può fare un business anche con la divulgazione scientifica chiaro perché credo e lo dico in maniera molto onesta che oggi non esiste una società che faccia divulgazione scientifica in italia credo che joe pop sia la prima una società che paga il dipendente li assume affinché facciano i divulgatori scientifici e io sappia non esiste quindi questo è un primato di cui conciapivo non mi prendo l'anzo ma senza senza ma diciamo mi immagino appunto ecco che che angela piuttosto che che gli altri abbiano avuto loro società e facevano tutti i vari prodotti diciamo di divulgazione scientifica ecco però più tradizionali visione se si si su in tv io credo beh loro lavoravano con in rai ora non so che rapporto avessero con la rai insomma con canali televisivi però sì qualcosa del genere qui in uk il grande diciamo il dio della divulgazione scientifica per quello che riguarda l'ambiente è david d'attenbro e lui ogni volta esce con questi documentari pazzeschi pazzeschi che che fanno sempre dei numeri diciamo più che dei numeri proprio vedo la reazione degli inglesi è proprio wow ma c'ha cent'anni non so quanti anni c'ha e quindi è veramente e ancora va lì e magari ecco per fare un documentario stanno lì 18 mesi aspettare di prendere le immagini quindi è come dire l'estremo quando arrivi poi che puoi fare un po quello che vuoi e allora vai a che quello insomma è molto che con lui però ecco il grande nome qua di ok ovviamente vabbè ma lui è un mago e si concordo con te che è proprio il sentimento che che cambia cioè la percezione delle persone quel wow ma ma che cavolo hai fatto ritorniamo un po a tom a tom tom croiss con 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 top gun io l'ho visto domenica al cinema cioè ok per quanto la storia sia scontata ragazzi io io stavo così in sala oh grazie cioè top top ma scherziamo ma ma vogliamo parlare di quelle scene in aereo ma stiamo scherzando cioè quello è nato quello è matto anche io ho visto tutti i behind the scenes è mattissimo cioè ma tu puoi mai pensare di portare tutti gli attori veramente negli aerei caccia e far rifare le scene ma 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 si pazza lo dico in napoletano cioè quello si è messo là per quanti anni due anni e mezzo a far rifare provini prima in un aereo poi in un altro poi andiamo qua e poi andiamo a 2000 all'ora vabbè cioè è assurdo è assurdo è un altro livello di dedizione sempre legato a questo argomento un'altra cosa che sulla quale riflettevo vedendo un'intervista credo fosse era una tavolata sai che non mi ricordo il nome del del media che fa queste interviste a delle tavolate nella stessa tavolata c'era a samuel jackson l'attore che fa l'occhi michael keaton brian cox che è quello di succession che dice sempre a faccio quello lì grande attore inglese e parlavano no di cinema e due di loro dicevano incredibile come con le serie televisive adesso serie televisive attuali un attore abbia la possibilità di entrare molto più nel merito del personaggio perché non ha solo un'ora e mezza per raccontarlo ma ha più tempo e allora vedi un'arte che si sviluppa molto di più insomma e quindi tornando a quello che dicevi tu del tempo se uno ad esempio al posto di fare un documentario facesse una serie tu hai veramente la possibilità di entrare nel merito di tanti argomenti sviluppando aspetti che sui social o con un film non potresti mai fare ecco sì sicuramente vabbè e secondo me il modello della serie ha dei ha delle cose molto interessanti cioè ti permette di fare tante cose e il fatto che le persone magari se è lunga la serie rispetto a un film cioè hai hai più stai più tempo con loro cioè te spettatore stai più tempo trascorre più tempo insieme ai personaggi quindi in un modo o in un altro ti affezioni oppure ovviamente li odi se il cattivo è il buono e quel modello lì è fichissimo secondo me anche dal punto di vista documentaristico può essere super interessante ci sono tanti documentari anche su disney pazzeschi vabbè uno su tutti mi viene in mente quello di will smith che purtroppo c'è stato questo problema ultimamente però lui ha fatto will e poi bisogna bippare will e poi diventa smicchi esatto però ha fatto un documentario ragazzi ma scherziamo cioè ma non so se mamma mia marco ballo a vedere ma è pazzesco la qualità ecco la qualità delle immagini quelli ci avranno perso dieci anni per fare quelle immagini per andare a trovare pazzesca pazzesca c'è lui che va in giro per il mondo in varie parti molto un è proprio un documentario secondo me quasi vecchio stile ma moderno con le tecniche moderne sì che va negli abissi va sulle montagne assurde nel vulcano però con lui poi pazzesco bello bello la televisione italiana invece non non ti ha chiamato già per fare trasmissioni in televisione aspetta aspetta no 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 non mi ha chiamato cioè perché secondo te dovrebbero ma c'è assolutamente sì mi sembra abbastanza ovvio no poi va bene la televisione premesso che non ti suggerirei di fare televisione ok quindi questa è la premessa cioè mentre prima l'idea era che uno partiva dai social per andare a televisione no cioè la televisione non ti porta niente se non andare a sanremo e magari ti dà popolarità ma se no da set cioè dal punto di vista del contenuto e del solo dei problemi in realtà però di per sé se ci fosse una televisione smart immediatamente vai a vedere dici caspita cioè è ovvio che su questi temi abbiamo bisogno di persone che che ne parlino con una cifra linguistica giusta per il 2022 ecco quindi la tv secondo me potrebbe essere comunque interessante sai perché perché secondo me è lo step intermedio tra il web e il cinema a livello ecco di durate di approfondimento io la vedo così perché un programma non lo fa in otto minuti no cioè potrebbe essere l'occasione per raccontare le cose a uno step cioè prima di fare il film che poi verrà andrà per i oscar bisogna passare non è che si può passare da 0 a 100 passiamo a 50 quindi io ho un'esperienza per una per un qualcosa in tv a me piacerebbe farla ma poi per esperienza proprio personale il mio suggerimento è se la fai ricordi vai e la parte legale in cui stabilisci che hai carta bianca non ti devono rompere i coglioni non può entrare uno a dire no però a famo ma che sta di questo no ma dai metti di così ecco smarca la prima perché sennò c'è il problema che il contenuto poi te lo a zoppano dopo due minuti ah no no lo terrò a mente e per chi mi conosce magari ecco i colleghi che staranno vedendo queste interviste si staranno facendo delle sbellicate di risate perché perché quando mi impunto divento un diavolo nel senso molto se io faccio un programma io ovviamente l'entourage e deve essere quello chiaramente poi ci sono persone in televisione che sicuramente hanno un'enorme esperienza e poi starebbe a noi cercare di capire cosa rubare no perché rubare dalle esperienze altrui secondo me è fondamentale e però è cioè se ci chiamano per un qualcosa e beh poi è chiaro che dobbiamo essere noi a fare quel qualcosa senti andrea avevo chiacchierato con i df che sono due fratelli che fanno video su youtube e una delle cose che ha colpito di più in generale la mia community è stata quando hanno detto che per fare un'immagine di copertina una thumbnail su youtube impiegano tre ore quanto tre ore tre ore tre ore come via io ci metto 33 secondi ecco questo è il livello di attenzione che do io sì noi credo che siamo in una via di mezzo possiamo metterci anche un'ora e mezza ok sì sì quando tu sei malato quando hai dei problemi nella mente succede questo capito no ci sono poi noi siamo tanti per cui c'è sempre uno scambio di idee tanti scambi di idee e è chiaro che questo ti migliora però porta anche del tempo speso no ma secondo me deve essere così no perché così se ci metti il claim nella tam c'è la scritta se la metti qua poi un problema no quasi l'immagine deve essere diversa io come generale credo che le tam parliamo di youtube devono essere semplici secondo me una parola due parole e un'immagine grossa perché poi quello che dico sempre mi raga non dovete vederla sullo schermo la tam se c'è sullo schermo fai un rimpicciolimento enorme se riesci a vedere qualcosa bene quindi però sì ci vuole tempo anche per quelle che potrebbero essere sciocchezze per chi guarda i video anche un'ora due ore tre ore mi rendo conto tre ore effettivamente un po troppo però però ci sta portaci dietro le quinte di una giornata classica in geopop a che ora arrivi la mattina che come funziona come vi organizzate il palinsesto come funziona immagini anche se a lunedì cosa succede sì lunedì io arrivo solitamente verso le otto otto e mezza un po' prima perché sono il più vecchio e quindi ho un po' più di cose da fare e quindi mail check mail rispondi un po' qua rispondi un po' là il lunedì alle nove e mezza abbiamo il sync meeting un riunione interna di sincronizzazione cioè con tutti i ragazzi ci sincronizziamo cioè chi fa cosa nei prossimi giorni e cosa abbiamo fatto nei giorni precedenti se ci sono stati dei problemi nei giorni precedenti facciamolo diciamocelo magari quello stesso problema l'ha avuto un'altra persona la settimana prima è già la soluzione quindi uno sharing una condivisione di problematiche e di attività poi c'è sicuramente un bel po' di ore di scrittura io personalmente com'è no ti sento ok non avevo sentito qualcosa di strano verifico la maggior parte Andrea vedi dopo tanti anni su youtube inizia a sentire voci questo è normale non solo la notte anche di giorno mentre parla con Gio Monti va bene sicuramente validazione di tanti contenuti sia articoli che video poi c'è solitamente giriamo il lunedì il giovedì giriamo una serie di video quindi qua questo quello che vedi è il set principale mio perché poi ognuno ha un proprio set con angolazioni diverse e poi vabbè presto faremo un altro un altro set nell'altra parte della stanza però lo vedrete tra 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 un po' e e poi ovviamente il girato il girato il montato verifica del montato c'è Gabriele che monta praticamente due barra tre video a settimana proprio oggi è arrivato il nostro nuovo videomaker Andrea quindi avremo un motore in più però non duplicheremo il numero di video ma punteremo sempre più sulla qualità meglio e sulla declinazione dello stesso contenuto sui vari sulle varie piattaforme e poi e poi e poi niente ci sono mille riunioni la mia giornata ormai diventa più riunioni che altro riunioni sia interne che esterne sì e poi ci cominciano ad esserci gli eventi che noi qua chiamiamo insomma mi hanno insegnato io poi vengo da un mondo totalmente diverso e eventi talent cioè eventi dove sei invitato ma per esempio giovedì vado a Rimini per il web marketing non mi ricordo come si chiama scusate mi scuso con gli organizzatori non mi ricordo il nome però vado là e quindi le attività sono tantissime sono tante 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 oggi per esempio devo rivedere lo script di un video che non vi posso dire di di con quale insomma con quale brand stiamo collaborando non ancora però è sul rally quindi motorsport bellissimo stiamo facendo un'animazione 3d di queste auto che fanno questi salti incredibili eccetera eccetera e oggi mi vedo con Marco che è l'animatore 3d credo anche lui insomma e quindi è un pullulare di cose creatività a palla idee organizzazione e poi esecuzione suona costoso ecco per uno magari che sente dall'esterno no perché comunque sono tante persone coinvolte prodotti originali da creare cioè non è faccio i video in cameretta no e quindi ci deve essere poi anche un ritorno di tutta questa attività e quindi immagino che questa possa essere la perplessità dall'esterno per per tenere in piedi questa attività hai bisogno poi di avere un buon flusso di di entrate ecco da da sta vicenda eh certo eh noi le entrate chiaramente dovremo dovremo aumentarle però eh noi siamo partiti con show people quindi che che ha dato una una spinta ma già in quest'anno noi stiamo stiamo andando bene eh stiamo andando positive very positive ma più che altro io io sono molto fiducioso noi eh insomma anche a livello aziendale siamo fiduciosi perché perché le persone sono cioè secondo me stiamo facendo un buon lavoro e lo si percepisce non non tanto dai numeri perché i numeri puoi fare i numeri anche con dei video di merda parliamoci chiaramente eh fare grandi numeri con dei video culturali perché noi facciamo video che di 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 pillole di conoscenza no raccontiamo cose e la gente dice ah ma non sapevo come funzionava sta roba ah ma non sapevo che e una cosa è fare i video faccio lo spogliatello e faccio un milione di views vabbè magari io non lo faccio il milione di views però è una cosa diversa fare un milione di views su il lago più grande del mondo e spieghiamo come sto lago si è formato a livello geologico ma cioè e quella è la cosa forte per cui abbiamo un un rapporto fortissimo legatissimo con la nostra community e questo ci permette ovviamente di anche di di fare nuovi progetti di avvicinare dei brand eh aumentare il numero di collaborazioni e questo ovviamente poi alla fine dell'anno ti permette di di pagare le persone di avere uno studio fighissimo eh strumentazione eh avere la possibilità di prendere di di puntare e contare su degli esperti freelance per esempio quando serve e poi boh speriamo che vengono altre cose eh beh sarà il Netflix sarebbe bello guarda io penso Andrea che voi siate in una avete preso un'area che è fenomenale perché a è un'area mainstream quindi c'è un tema che riguarda no il pianeta tutti quanti non è un qualche cosa che riguarda soltanto gli appassionati di ping pong quindi questo ovviamente fa un'enorme differenza a livello numerico scusa ho citato il ping pong a caso non so perché mi è venuto in mente dovresti fare un video sul ping pong spero tu lo faccia presto ma a parte quello dai aspetta aspetta se lo faccio mi raccomando no ti dico penso che ti do il ti chiamo d'altronde è una figata secondo me perché è pazzesco lo so lo so anzi posso darti dovresti virare Geopop e parlare solo di ping pong secondo me questo sarebbe ogni giorno c'è un cazzo basta ping pong esatto ping pong potrei lanciarlo io perché parlo solo di video scientifici di ping pong no l'altra cosa è che oltre ad essere un settore ovviamente un'area che interessa a tutti molto ampia hai mille declinazioni possibili no perché hai tutta la parte media editoriale no dove puoi avere vari testi su vari su vari argomenti quindi quello è un aspetto hai la parte di produzione di contenuti per varie realtà che possono può essere la radio può essere la televisione possono essere serie televisive cioè puoi fare tanti aspetti hai la parte di eventi tuoi nel senso non solo come speaker ma magari c'hai il Geopop Festival c'hai l'evento fisico dove si parla di questi argomenti tu sei l'hub che raggruppa no tutti cioè quindi hai veramente tante tante possibili attività su un argomento così il grande problema a monte è riuscire a avere la community no quello è il grande step da fare che è difficile una volta che tu hai fatto quello però secondo me ottimo dipende solo dall'esecuzione ecco però questo diciamo siamo un grande un grande punto di partenza ecco sì sì noi la cosa che più mi dà carica è che abbiamo appena cominciato cioè abbiamo veramente appena cominciato quindi siamo proprio agli inizi da qua cinque anni le mie ambizioni le nostre ambizioni sono molto molto alte è giusto che sia così altrimenti eh su quali social Andrea siete eh ad oggi diciamo youtube chiaramente youtube facebook ok instagram tiktok hm come sta andando tiktok tiktok personalmente ancora devo capirlo ma credo che un po' tutti ancora dobbiamo capire non lo so eh però io credo che tiktok in questo momento abbia bisogno di di una produzione anche molto specifica molto per tiktok sì assolutamente tiktok è nata come insomma piattaforma dove i video sono brevissimi hanno introdotto in dieci minuti da poco da qualche mese ovviamente per noi super perché io tengo molto al respiro ecco ne parlavamo prima eh a me sta un po' sulle scatole fare dei video di dieci secondi ecco magari li facciamo però sono proprio il contorno ecco non è il nostro messaggio non sta là il nostro messaggio però eh lì secondo me tiktok credo che tu ne abbia parlato tanto tiktok è in evoluzione sarà in evoluzione e sarà il prossimo instagram cioè eh sì cioè secondo me evolverà e anche lì i tempi aumenteranno e anche le cose interessanti aumenteranno su tiktok cioè voi secondo me Andrea potete fare dei numeri incredibili su tiktok appena ci dedichi un po' di attenzione cioè su tiktok sì sì io credo che su tiktok se facciamo le cose bene ora ora ci stiamo organizzando perché ci vuole organizzazione per fare una cosa del genere perché poi magari ti trovi scoperto su tutto il resto no bisogna essere ecco quando non sei un singolo e fai le cose da solo devi pensare ecco a livello aziendale e quindi e quindi è tutto un po' più equilibrato tutto un po' più ponderato però su tiktok io ci credo che che faremo belle cose quest'anno siamo esplosi su youtube tanto perché abbiamo fatto 600.000 iscritti in sette mesi quindi proprio boom e su facebook eravamo esplosi l'anno scorso abbiamo superato i due milioni quindi siamo siamo tanti e su instagram pure sta andando forte siamo oltre a mezzo milione secondo me tiktok piano piano andremo 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 il podcast c'è nel senso un sacco di gente ce lo chiede anche perché tantissimi nostri video potrebbero essere solamente ascoltati esatto c'è semplicemente e poi c'è una bella durata perfetto per quando sei in giro quando fai le tue attività esatto no no credo che a breve partirà anche il podcast va bene basta ci ho dato un po' di cose che devi assolutamente fare ricordati del ping pong soprattutto però Andrea questa chiacchiera era solo per dirti mi raccomando video di ping pong per il resto a parte gli scherzi ma se lo faccio ti chiamo? ma certo io ti posso fare da advisor scientifico ti dico tutto o qualunque cosa nel caso vengo a Brighton e facciamo il video sul ping pong a disposizione sul ping pong in qualunque a me senti davvero complimenti avanti tutta e ci aggiungiamo la prossima ci vediamo a Brighton a Milano o da qualche parte insomma quando sei a Milano mi scrivi eh dai grande Andrea alla prossima ciao 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 zio a presto